Amici di Canotaggio.org, è davvero impressionante la sfilza di titoli conquistati quest'anno dal Saturnia e il merico è il tecnico dell'anno. Un premio che l'ANAC e la Federazione Italiana Canotaggio hanno voluto consegnare a Spartaco Bargo. Spartaco, innanzitutto, quale soddisfazione per questo premio importante che ti viene dato alla stagione ma anche una carriera straordinaria? Beh, una soddisfazione importante, io non voglio negare, è un'aspirazione che avevo da tanto tempo perché ci sono stati miei colleghi, illustrissimi colleghi che mi hanno preceduto, ricordo Andrea Coppola, Mimmo Perna, tantissimi, Antonio Lapadula e essere premiati con lo stesso premio per me è un grandissimo prestigio. Ma quella del tecnico è una vocazione? Sì, è una vocazione che ho sempre avuto anche quando ero atleta, difatti anche nella mia piccola società Canotaggio e Timavo, molte volte i ragazzi più giovani facevano riferimento a me per qualsiasi tipo di esigenza. Il miracolo Saturnia, so che non vuoi spiegarci alcuno dei segreti, però qualcosa ci puoi dire a proposito del lavoro condotto in questa società? Credo l'unione fa la forza, non ci siano altri segreti, questa qui è la chiave di volta, dirigenti, soci, atleti, tecnici che tutti hanno voglia di vedere emergere la propria società. E le sfide del futuro quali sono? Tu è di tecnico e del Saturnia? Tecnicamente mi piacerebbe portare un equipaggio societario a una manifestazione importante, quale un campionato del mondo junior ad esempio, un equipaggio multiplo perché un singolo l'ho già fatto e poi come società ancora più riuscire a coinvolgere il corpo sociale nella squadra agonistica. Grazie Spartaco Barbo, complimenti. Grazie a te Marco, è un piacere e un onore per me essere qui con te, grazie.